Ciao a tutti e benvenuti, è chiaro che questa è una giornata in cui siamo un po' in apprezzione soprattutto per Davide Calabria e quindi naturalmente poi quando arriveranno notizie le commenteremo nel corso della giornata, però ci fanno discutere, ci fanno commentare le dichiarazioni del designatore Gianluca Rocchi dopo Empoli-Milan. Immagino il pensiero di fondo dei tifosi del Milan o quando succede qualcosa che può essere interpretato o giudicato a nostro favore arriva subito la reprimenda del lunedì. Però non credo sia questo onestamente, capisco diciamo così il battito in questo caso non cardiaco ma dello stomaco dei tifosi del Milan ma non credo che sia questo lo spirito del designatore Gianluca Rocchi che ha espresso una sua opinione rispettabile, qualificata e quindi massimo rispetto per il designatore arbitrale. E' chiaro che però resta da discutere, il tema si presta ulteriormente a commenti dopo la dichiarazione del designatore arbitrale. Intanto su Twitter un profilo molto milanista, molto militante, molto rossonero ha tirato fuori un episodio che si riferisce al 2018 in un Inter-Verona, una rimessa laterale 10 metri più avanti in gioco di Perici sui car di gol dell'Inter e vittoria sul Verona per 2-0 ma al di là dell'Inter e del Verona che c'entrano francamente relativamente. Il fatto è che l'arbitro era Rocchi e c'era anche Aureliano nello staff arbitrale. Aureliano oggi è arbitrato in Poli-Milan, anche molto bene secondo quello che ci ha detto il designatore Rocchi e lo stesso designatore Rocchi era arbitro di quella partita. Quindi qual è la morale? Sono cose che possono succedere nel corso di una partita. Adesso andiamo avanti a commentare, io non so se questo episodio sia vero, l'ho letto su Twitter, ve lo giro per quello che ho letto, sarà vero o non sarà vero, non lo so, però ci riporta nel novero delle cose che possono accadere. Vi ricordo OneFootball, scaricate l'app di OneFootball, faccio questo gesto perché l'app di OneFootball è nella descrizione di questo video, scaricatela, è gratuita. OneFootball vi porta nel mondo del calcio in streaming, partite, highlights e notizie, tanto OneFootball, tutto gratuito, a vostra esposizione, andate nella descrizione di questo video e scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball vi aspetta. Detto questo, ripeto, siamo nell'ambito delle cose che possono accadere. Su Empoli Milan, però, e sull'episodio è giusto fare alcune considerazioni, ha torto ragione, poi ciascuno di voi le valuta, ciascuno di voi le commenta, sempre nell'ambito del rispetto per tutte le posizioni di carattere arbitrale. Allora, sullo 0-0, quando si fa male Kier, dal momento che oggi attendiamo anche di capire come sta Simon, quando si fa male Kier, la palla ce l'ha a Tatarusanu, Tatarusanu chiede a Kier, perché lo vede sofferente, come stai e Kier gli dice male, e Tatarusanu butta il pallone fuori, fa per buttare il pallone in fallo laterale per consentire i soccorsi a Simon. Lempoli prende palla, prende palla e rischia di fare gol. Si avvicina alla nostra area di rigore, poi Kier, alla fine dell'azione che il Milan riesce a sventare, Kier lo vediamo sdraiato a terra perché non ce la fa più, non può più andare avanti, però mi chiedo, visto che siamo così attenti alle rimesse laterali e a dove vengono eseguite, ci vorrebbe spirito sportivo anche in quei casi. Tatarusanu stava buttando la palla in fallo laterale per consentire i soccorsi a Kier. E ma Kier, possono dire quelli dell'Empoli, era ancora in piedi. E allora vedi, sì, però stava già male ed era già fermo. Allora vedi che vale tutto, nella concitazione di una partita. Questo intendo dire. Andiamo avanti. La rimessa in gioco di Tonali. Dice il mister dell'Empoli Zanetti, è un episodio spacca partita. Beh, insomma, intanto non è la rimessa di Tonali che libera Leao solo davanti al portiere. La rimessa di Tonali consente a Leao di giocare nella metà campo avversaria, ma io ho sentito molti opinionisti elogiare Leao per le doti tecniche che ha esibito e che ha sfoggiato in occasione di quell'azione. Aveva tre giocatori dell'Empoli addosso Leao nel momento in cui dà la palla a Rebic, anche perché il Leao del secondo tempo, nonostante le ultime sgroppate, fra cui poi quella del gol del 3-1, è un Leao che non è scioltissimo come nel primo tempo, aveva già corso tanto, era un po' appesantito, quindi è stato rimontato da tre giocatori dell'Empoli, ma fa ugualmente una giocata tecnica importante che gli consente di servire Rebic. Quindi non è che in sé per sé da sola la rimessa in gioco di Tonali descrive, scolpisce e definisce il gol del Milan. No, c'è il prosieguo dell'azione dopo la rimessa di Tonali. C'è un'azione, non è che Leao se ne vada solo. Attorniato da tre giocatori dell'Empoli, Leao fa una bella giocata dal punto di vista tecnico e libera Rebic. E che poi non sia stata spacca partita la giocata di Leao dopo la rimessa di Tonali, lo conferma il fatto che l'Empoli ha pareggiato. Io non sono riuscito a vedere, onestamente lo dico, replay della punizione, del fallo che ha portato alla punizione dell'Empoli. Avevo dei dubbi su quel fallo, però me li sono tenuti per me, li ho espressi velatamente, vagamente, perché non ho avuto la possibilità di vedere il replay. Ma Leao poi ha pareggiato, quindi non è che il gol di Rebic spacca la partita. Il gol di Rebic arriva in un concitato finale in cui Leao recupera una palla che il nostro portiere stava mettendo fuori per soccorrere un proprio giocatore che si era fermato, in cui c'è una rimessa laterale dei metri più avanti, cosa che è già successa in altre partite, in altre competizioni, sia in Italia che in Europa. E quindi stiamo parlando di un concitato finale, non dell'episodio che spacca la partita. L'episodio che spacca la partita è il gol di Ballot-Turé. Quindi l'Empoli pareggia, per cui il gol di Rebic non ha spaccato la partita e poi c'è il gol di Ballot-Turé ed è lì che la partita finisce. Sul gol di Ballot-Turé è stato bravo il Milan a non farsi tramortire dal gol del pareggio dell'Empoli perché in qualsiasi altra situazione tu ti aspetti che dopo il pareggio dell'Empoli la partita è finita. Ti aspetti quattro tocchetti in mezzo al campo giusto per aspettare il fischio finale ma sei calcisticamente sotto un treno per gli infortuni, il pareggio quando pensavi di poter gestire l'1-0 per cui ti fermi, invece il Milan va a segnare. Quindi non è stato un episodio spacca partita, è stato un episodio rimontato dall'Empoli dopo una punizione mezza e mezza anche se il designatore Rocchi dice, e io sono d'accordo che Aureliano ha fatto una gran partita. Però diciamo che il designatore Rocchi usa in ogni caso nei confronti alla rimessa laterale di Tonali il termine sbavatura, non di errore clamoroso. Quel gol è stato comunque rifinito da una grande giocata tecnica di Leao, quindi c'è stata azione dopo la rimessa di Tonali ed è stato comunque pareggiato dall'Empoli. Quindi la partita è stata decisa dopo l'1-1, non dall'1-0. Questo mi sembra sia banale se volete, ma cronisticamente ineccepibile, cronisticamente da descrivere, cronisticamente da dire, sempre nel rispetto delle posizioni di tutti naturalmente. A più tardi.